La vendetta è l'unica cosa che mi è rimasta bene. Sto davanti a te, è Antonio. E a lui interessa solo trovare il bastardo che gli ha rovinato la vita. È solo un calabrese intoccabile. È un altro paro dei stronzi. Cosa voleva la commissaria? E questo tavolo che ce lo apre? Quello ci pensarò io. Che cazza ha fatto a te, questo vecchio? Stiamo parlando di Don Ferdinando. Don Ferdinando? Pensi che la prendiamo franca? Certo, come sempre. Don Ferdinando non esiste. Questi soldi non bastano più Don Ferdinando. Metti la pistola lassù. E adesso scendi. Lentamente. Questo è il mio battifugno. In ginocchio! Che cazatore. Che cazatore. Grazie a tutti